Io sono il dottor Fabio Zaina, medico fisiatra di Isico, stasera con me ci sono la terapista Alessandra Negrini e il signor Domenico Pallini, tecnico ortopedico. I principali obiettivi sono la riduzione del dolore, il controllo posturale, la riduzione dei rischi e il miglioramento della vita quotidiana. In una signora di 80 anni con importante curva lombare e alterazione dell'assetto sul piano sagittale che non tollera più il corsetto durante il giorno, portato negli ultimi 10 anni circa, può avere efficacia il corsetto da usare la notte? Può avere efficacia, in ogni caso potrebbe valere la pena rifare il corsetto attualmente in dotazione che magari è vecchio di 10 anni e la signora è cambiata fisicamente. Tenete presente che l'ASL concede un corsetto ogni 3 anni agli adulti. Ci sono fasi della vita in cui può durare tranquillamente di più ma altre fasi in cui vale la pena procedere al rinnovo. Perfetto. Fedeva anche sul dosaggio, il notturno comunque si può provare, però io in ordine proverei. Prima di tutto cambiare il corsetto, poi eventualmente provare il dosaggio notturno e poi si valuta.